A quale round di calazione siamo? Quarto. È venuto a controllare me o AUS? Questo caso. È un caso unico. L'ossigenazione? 98%, resistenza delle vie aeree in calo. Perfetto. AUS sta bene? Io non ne ho idea. Papà, che cosa ci fai qui? Ho ricevuto il messaggio. Ti ho portato un po' di gomgook di tua madre. Che messaggio? Quello in cui mi chiedevi di portarti la cena. Sono andato a neurologia. La segretaria mi ha detto che te ne sei andata. Io sto collaborando a questo caso. Un caso unico. Mi sembra molto complicato. E tu puoi aiutarli? I polmoni stanno collassando, scusami. Ciao. Aumento l'ossigeno. Io aumento i liquidi. Costruzione, coagulo. La chelazione peggiora le cose, abbiamo sbagliato sul piongo. Controlla i parametri, aiutami a salvare questa cosa. La fisiologica scorre, ma non dà risultati. Valvola a senso unico, vasospasmo. Se hai ragione, un calcio antagonista dovrebbe rilassare l'arteria. I polmoni non hanno sistema nervoso, funzionerà lo stesso. Lo sapremo presto. Il flusso della fisiologica va bene. Il vasospasmo è in calo. Il polmone sinistro ridiventa rosa. Bel lavoro. Il lobo mediano destro o no? Niente. Abbiamo ucciso un lobo. Il colmone sinistro ridiventa rosa. Il Grazie a tutti